Sono i nostri comischi! Fanno spazio, dopo mi tirerai, che maschio sei! Lui chi è? Come mai l'hai portato con me? Io mi vieno, mi spieghi qual è! Io volevo incontrarti da sola, semmai! E mentre lui... Lui chi è? Lui chi è? Lui chi è? Lui cos'è? Mollalo! Lui chi è? Lui chi è? Lui cos'è? Lui cos'è? Lui com'è? E' distratto ma è certo di troppo! Mollalo! Mi aspettavo, lo sai? Un rapporto un po' più normale! Quale eventualità? Trovami una collocazione! Ora sentito mi dai! L'atteggiamento che dovrò toccare! Sarò grande vedrai! Un bacio tra le braccia lui! Non è il mio tipo! Non è il mio tipo! Lui chi è? Lui chi è? Lui chi è? Lui chi è? E' distratto ma è certo di troppo! Mollalo! Lui chi è? Lui chi è? Lui chi è? Lui chi è? E' distratto ma è certo di troppo! Mollalo! Il triangolo no! Non l'avevo considerato! Da dopo ci troverò! La geometria non è un reato! Un calcio di tornare! E questo amore è un po' piccolato! Mollalo! Ma il triangolo! Io lo rifarei! Perché no? Io lo rifarei! Lui chi è? Lui chi è? Lui chi è? È distratto ma è distratto ma è distratto ma è distratto ma è gralco! Lui chi è? Lui chi è? Lui chi è? Lui chi è? È distratto, ma è certo di troppo. Mollalo. Lui chi è? 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 Lui chi è?